Allora ragazzi, oggi vi insegno a cucinare una bomba. Vi faccio vedere come si fa la bomba, che vi fa buono per il raffreddore, perché quando vi siete rappresi vi ci avete una sottopata, oppure quando vi avete delle malattie strane, vi fate la bomba. Allora, gli ingredienti sono, allora, Audi, una scatola d'Audi. Poi vi ci vuole una scatola, vedete, come questa qui di Audi, Audi, osso. Poi dopo vi prendete una scatola di taipirina, liso, muscilla in pasticche, aspirina e cognac, osso. La mia nonna me lo faceva sempre da piccino, mi rimetteva in mondo, osso. Quando andavo a letto e stavo male, mi ricordo che mi faceva questa bomba, diciamo, questo hotel, diciamo, della salute. Poi dopo si va tutto a ballare, si andava giàissimo, vabbè. Allora, un ovo fresco, poi vi prendete un limone, una forchettina taipirina. Oh vai, l'ovo, buttiamola ai gatti. È importante, poi voi prendete una fialetta, ah no, il latte, mi raccomando, il latte. Allora, una fialetta, per i capelli ci sta bene. Con l'ovo, non sta buono, fa buono. Vedete la fialetta? Una volta messo tutti gli ingredienti, dovete fare, diciamo, bollire, un tegamino. Ecco, vedete, tu prendete un tegamino, ve lo fate bollire. Fa buono, rimonta, dai, fa la schiuma. Vedete, che specialità. Questo gli diciamo altro che le medicine moderne. Questo gli è la medicina dei contadini, da una volta. La medicina fa buono, diciamo. Vedi, ti li mette, ti li mette proprio, se tu c'hai, per dire, una diarrea, un torcicollo. Ti li mette a nuovo, ti li mette a nuovo. Gli altri sistemi che usavano da me, quando ero piccino. Mi facevano così. Non è che facevano tanto affare. Mi facevano, ma lo sai, allora l'altra sera l'avevo visto, gli extraterrestri. C'era gli extraterrestri. Uno gli fa, io, guarda gli fa uno. Te sta armino. E questo che mi riguarda gli fa. Oh ma ci siamo a mangiare un altro prodotto. E gli gnomi, o gli gnomi, oh ieri a casa mia c'era uno gnomo. Tu vedessi il lavoro, se ne vai il cappello, mi fa, oh sono uno gnomo. E la notte musicale, la notte elettronica. Quando la musica non è più musica, diventa magia. Magia, portami via. Facci toccare le stelle, questi tu mestieri. Quella pallina è un cerchio, la pallina è un cerchio, la pallina è un cerchio. Capito? E poi dopo niente, tu lo vai a pinta per dire, io una volta avevo gente a cena, si andò sulle portate sul Pemonti, fa madonna, non ci sto più dentro, madonna e botta. Se fosse una tua macchina, sarebbe un aeroplano. Allora senti, c'è le pasti, papai, olio. Le notte tra un pochino il buio cala. Ora corro forte, corro lontano e me ne vado a seano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.